Diciamo che il nostro sistema produttivo ha bisogno di rafforzarsi, ha bisogno di entrare in logiche sistemiche e strategiche. Sace, così come abbiamo fatto con altri partner istituzionali, è un'azienda dello Stato che ha delle grandi competenze che trasferite nel nostro sistema produttivo possono veramente dare risultati e opportunità. Intanto trasferendo anche le competenze, Sace si è proprio messa a disposizione delle imprese marchigiane per fare anche un educational, una sorta di formazione alla figura dell'export manager. Allora io credo che il ruolo della politica, in questi casi della politica industriale, sia quello di puntare a far crescere queste imprese non solo finanziariamente ma anche culturalmente e dargli tutte le opportunità che ci possono essere anche attraverso società dello Stato come questa che sono molto importanti e ci permettono di entrare dentro quelle linee strategiche appunto della politica industriale nazionale. Noi abbiamo fatto un accordo con loro, firmato a Roma, stasera a Fano e in diretta con tutti gli imprenditori collegati che sono davvero tanti, presentiamo quelle che sono le opportunità, gli strumenti. Accompagniamo tutte le aziende a supporto dei loro processi di internazionalizzazione. In aggiunta, negli ultimi mesi, vista anche l'epidemia Covid, il Ministero delle Finanze ci ha incaricato con il decreto liquida prima e il decreto semplificazione poi in attività aggiuntive, in particolar modo nel garantire la corretta emissione di liquidità a tutte le aziende che sono state colpite dalla crisi di Covid ma anche contestualmente a tutte le aziende attive in un ambito importante quale quello della Green Economy, quindi affianchiamo l'azienda affianché possa implementare i loro processi in ambito di economia circolare e quant'altro.